E' la loro testimonianza anche di solidarietà, che non era soltanto per la popolazione gibellina, ma era una solidarietà che indicava a tutti i popoli del sud del mondo le strade della rinascita, le strade della resurrezione, della riscoperta, degli antichi sedimenti di civiltà, di valori umani, che qui avevano arricchito la storia di tutte queste popolazioni e che oggi potevano costituire il serbatoio della spiritualità per tutto il mondo intero, per le crisi profonde che travagliano le civiltà occidentali, le civiltà industrializzate, giunte all'apice della ricchezza, maimè anche sull'orlo degli abissi, del nulla, della morte, della bomba atomica, della droga, dell'alienazione, dell'annientamento, solo il sud del mondo, con la riscoperta dei suoi antichi valori, del riproporre l'uomo con la sua altezza, solo questo può essere un messaggio di salvezza per tutti.